buongiorno siamo qui alla bella ardenga questa è la bella melissa perché vi comunichiamo che che cosa facciamo lunedì melissa allora lunedì 16 gennaio alle ore 11 ci sarà la presentazione dei nostri stalloni in più ci sarà anche cappella sansevero che però lavorerà rinaccino noi vi presenteremo il cabir da scar debbie poi avremo morpheus che è stato bello di frente poi che sarà l'ultimo anno per lui per la nostra stazione in monta ed è un figlio di galileo e ha vinto il derby di epson robetta e poi abbiamo oliballet lascia mardale olimon bene questi li troviamo lunedì alle ore 11 presso il nostro allevamento la bella ardenga san piero in barca e ci sarà la diretta su tutti i canali di bruntolo esatto vi aspettiamo ok grazie grazie a presto amici